Ottimo questo servizio con lo stoglieri alle Iene che ha come titolo il Premier Conte del Decreto di Sicurezza, firma di Giulio Golia. In buona sostanza, diciamo così che in questo servizio, Giulio dopo il servizio sullo splendido esempio dell'Accademia di Interazione di Bergamo, lancia su change.org una petizione in migrazione, diamo una possibilità a chi se la merita. Per sostenere un emendamento al Decreto di Sicurezza, lanciato proprio dal lancio dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che consentirebbe di avere una legge che vada a garantire più sicurezza e che vada ad aiutare i migranti che vogliono eventualmente integrarsi per davvero nell'Italia di oggi. Giulio Golia così porta questa petizione di change.org, che è indirizzata proprio al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo che oltre, quindi più di 120.000 persone l'avrebbero già firmata. Vi ricordo che oggi, lunedì 26 novembre 2018, è prevista la fiducia sul decreto in questione, quindi bisogna ovviamente fare molto presto. Conte quindi ha preso la petizione delle chiene e avrebbe detto promettendo, la valuterò e la terrò in considerazione. Quindi c'è, diciamo così, uno spiraio di luce che proviene da questo Presidente del Consiglio dell'Italia, Giuseppe Conte. Da questo, chiamiamolo ragionamento, da questa l'esame che vi ho fatto, si capisce che dal punto di vista politico e umano, Conte è molto aperto, quindi non credo che ci saranno problemi nel, diciamo così, prendere in carico la istanza di cui Giulio Golia, l'Iena e l'Italia 1, si fa a carico. Detto questo, auguro a tutti una buona giornata, iscrivetevi a questo canale e al prossimo video.